e del personale. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura per eventuali posizioni aperte presso la vostra società, augurandomi che possa incontrare il suo interesse. Ho lavorato nel settore cartario per più di dieci anni e grazie a precedenti esperienze lavorative sono riuscito ad acquisire specifiche competenze tecniche che mi serviranno per svolgere al meglio il mio ruolo. Sono una persona socievole, dinamica, volenterosa e desiderosa di imparare. Sono disponibile a trasferte di lavoro nonché a seguire eventuali corsi di formazione precedenti e successivi ad assunzione. Confidando in un vostro positivo riscontro e ringraziando per la cortesa attenzione colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.